Le sue parole, Matteo, se la cosa va così ancora per altri 20 minuti, mezz'oretta, e non c'è un rilancio, purtroppo c'è da abbandonare la camminata. Non volevo crederci. La sfida Genova-Montebianco racchiude due discipline, quindi legata la prima alla bici e poi la seconda parte in montagna. Questa sfida è importante per me perché la ritengo qualcosa di, tra virgolette, di anormale. Da subito, quando mi ho sentito parlare, mi è rimasta impressa. Da quando Nico Vassilese nel 2013 ha tentato il record e tuttora detiene il record. Sono Matteo, ho 30 anni, pedalo da quando ho sei anni, da bambino. E man mano che avanzavo con l'età, mi è entrata anche la passione per la corsa, prima su strada e poi in montagna. Si parte da Genova a Voltri, si percorrono circa 300 km fino ad arrivare nei pressi di Courmayeur. A quel punto si prosegue a piedi, quindi arrivare in vetta al Monte Bianco. Ho avuto il massimo dislivello nella minore distanza percorribile in tutta Europa. Quest'anno, in corso del Covid, ho avuto il Covid fino a metà gennaio. Ho pensato bene di presentare questo progetto alla mia azienda, Edam, per cui lavoro. E da lì, da subito, è scattata una scintilla anche per loro. Quindi lo stesso entusiasmo e sembra la stessa passione che ho io in questa sfida. Quando Matteo mi ha detto che voleva provare finalmente, perché erano tanti anni, a battere questo record e a fare questa esperienza, ero super entusiasta perché sapevo quanto voleva dire per lui. E anche per me, perché sinceramente io sono super felice quando un amico riesce a realizzare un sogno, a prescindere da poi come andrà, per lui era un sogno farlo e sono molto contento. Arrivando fino a questo punto e a conquistare la fiducia di tutte le persone attorno, diciamo che ho già battuto un mio record, quindi entusiasta e felice di questo. Questa sfida l'ho presa in mano da metà marzo, quindi inizialmente ho avuto l'approvazione da Edam, il supporto, e dopodiché abbiamo messo in moto tutta la macchina. Volevo stare attorno a questa macchina, non solo alla fase di preparazione mia atletica, ma anche tutto il contorno. Comunque volevo vivermi questa esperienza al pieno. Questi record non sono paragonabili a altri tipi di record, nel senso una pista di atletica è sempre quella, indipendentemente dal resto, la montagna cambia continuamente. Ovviamente per intraprendere un tipo di percorso del genere noi dobbiamo cercare di trovare le condizioni migliori relativi a quel piccolo periodo che avremo a disposizione. Io sono Denis Trento, sono qui come guida alpina, sono un ex atleta di scelpinismo, ho fatto per anni parte della squadra nazionale di scelpinismo, ho una grande esperienza su questa montagna e soprattutto sulle salite anche di tipo veloce dal fondo valle. Prima di partire per Genova, quindi in bicicletta, non avevo pensieri in senso particolari o affanni strani eccetera. ero abbastanza sicuro, anche forse perché la squadra e le persone attorno a me me lo trasmettevano e quindi questo per me contava molto. Per chi giustamente non può sapere dietro a un numero che tipo di sforzo, che tipo di impegno, che tipo di preparazione ci sia, vi posso dire che 300 km con 3.000 ai rotti metri di slivello come quelli che ha affrontato Matteo da solo, sono una bella mazzata nel senso che è la distanza più lunga che un professionista fa in gara. Matteo è super sensibile, non so se le persone questa cosa la percepiscono o no, io l'ho percepita e questa cosa secondo me è una delle cose più belle, la sensibilità sua. Beh, all'età di 15 anni ho perso la mamma e sì, non è stata chiaramente facile da gestire. Credo che la decisione di affrontare questa sfida, sicuramente un po' la preoccupazione da parte di mamma poteva starci comunque, fa parte del gioco, però me l'avrebbe approvata totalmente. Posso dire che come sono ora, quindi credo più forte, perché ritengo che molti problemi da affrontare riesco a trascinarlo e renderlo semplice. Forse mi perdo un po' più nelle cose piccole che mi fanno un po' più rabbia, però forse il problema più grosso riesco a patroneggiarlo. Per noi, per noi, per noi, per noi. Il momento della bici in cui ho sofferto di più è stata prima della prima pausa. È stato proprio per quel motivo che ho richiesto una pausa e sentivo un po' la sensazione di gambe un po' pesanti eccetera. Appunto quella pausa lì mi è servita completamente a risollevarmi sia mentalmente che fisicamente. Vedevo che ogni persona svolgeva il proprio ruolo con felicità e questa forse è stata la prima foto che ho fatto della squadra durante il tratto. Durante la fase di preparazione purtroppo ho scontrato una frattura composta. Questo ha rallentato la preparazione più che altro sulla parte alpinistica. Inizialmente quando ho saputo di questa frattura l'ho presa male. Dopo due giorni comunque riflettendoci mi sono concentrato su quello che potevo fare e non più su quello che non potevo fare. E questo mi ha portato comunque a buoni risultati anche nella parte alpinistica. Una volta entrato in Valle d'Aosta ho detto comunque ci stiamo avvicinando alla prima meta. È scesa la luce. L'emozione è comunque saliva perché mi avvicinavo alla fine di questa prima parte della parte in bici. Non siamo riusciti a provare il primo tratto del percorso che dovremo fare perché purtroppo nella settimana in cui è stato qui le condizioni meteo e della montagna non sono state molto clementi. Quindi invece di andare qui nel Miage come preventivato abbiamo dovuto ripiegare sul Gran Paradiso. Lo step iniziale dell'ascesa con Denis ero felice. Avevo forza mentale, avevo forza fisica, avevo tutto. Dopo il primo quarto d'ora iniziava un problema un po' strano. Mentre di me Matteo passa solo i primi minuti da carburare, lo stacco da bici a corsa, camminata. che è molto forte, c'è comunque da gestire come stacco. Diciamo che la situazione è stata data a step. Primo step, Denis ralentiamo. Secondo step, Denis proviamo a fare una pausa, vediamo come provo a mangiare. La terza, Denis un'altra pausa. Era un problema proprio inaspettato. Quindi questa mancanza di fiato, di ossigeno, un affanno, non lo so. Avevo comunque i miei battiti bassi, le mie gambe stavano bene. Ma questa mancanza di ossigeno non permetteva alla mia macchina di proseguire come era giusto. A questo punto, più si andava in quota, più c'era pericolo. Comunque già la montagna c'è, è un pericolo. Se non si va nelle condizioni ottimali su tutti gli aspetti, la cosa non va bene. Quindi c'è le sue parole. Matteo, se la cosa va così ancora per altri venti minuti, mezz'oretta e non c'è un rilancio, e purtroppo c'è da abbandonare la camminata e non volevo crederci. C'è stato un momento, prima che andasse con Denis su in montagna, che questa cosa del record iniziava un attimino a pesargli. Allora ho cercato, ma penso anche di esserci e lui, che ci sia riuscito lui, di togliere questa cosa come unico obiettivo. Nel senso che il record doveva essere uno spunto e un motivo per dare tutto e prepararsi al meglio. Ma in realtà il progetto è ben altro. La squadra, le sinergie, le emozioni, il percorso è tutto. Poi dopo il record è un numero. Lui, proprio l'ho visto nelle settimane che lo portavano al giorno X, che questa cosa, piano piano, gli era sempre più chiara e gli pesava sempre meno. Se ti focalizzi su tutto il progetto, hai vinto sempre. Semplicemente ho 30 anni e ho tutto il tempo per dimostrare questa cosa a me stesso, quindi di arrivare in vetta. Ma credo che la cima principale l'abbia scalata con l'aiuto e l'unione di tutte le persone che sono state al mio fianco. Grazie. Grazie.